Ci vedremo insieme i due project work che ti assegniamo. Sul primo si chiede la creazione di un piano di comunicazione che orienti una campagna di breve-medio periodo per il modello on-date. Proporre le linee guida della comunicazione in termini di messaggi, tono comunicativo, viso. Un progetto di creazione di una community online che informi e convoglia i clienti in attività di organizzare sia le processionali sia l'obiettivo. I tre obiettivi che ci portiamo a casa a questo progetto quali sono? Lavorare in team. Lavorare in team, quindi imparare le dinamiche di gruppo nella gruppo, un'esperienza specifica che è nel marketing e nella comunicazione. E il terzo e ultimo obiettivo, i dati di esibilità. Lavoreremo in un gruppo di cinque persone. Saremo coinvolti per queste cinque settimane. Abbiamo la consegna il 23 di novembre. Grazie ancora per aver offerto ai ragazzi l'opportunità di realizzare questo project work. Ci auguriamo che il lavoro e il svolto delle ragazze sia in qualche maniera utile per un'unica. Il messaggio, l'obiettivo qual è? Quello di raggiungere dei potenziali acquirenti presentando Onda Integra 750 come la soluzione ideale alle esigenze della vita quotidiana. Regolare quindi un messaggio che sia riferito essenzialmente alla creazione di un'esperienza di guida importante. Inizialmente è una fase di orientamento a cui è seguita una fase di divisione dei compiti per competenze. Successivamente è una fase analitica e statistica e poi è la fase più creativa della campagna di comunicazione vera e propria. Sicuramente è stato molto entusiasmante lavorare in un gruppo di persone in sintonia tra di loro. Il respirare l'azienda, sentire le emozioni che ti crea, questa è stata la cosa che mi ha colpito di più. Ci siamo sentiti importanti e veramente protagonisti di un qualcosa che era più grande di noi e che molti di noi si sognavano di fare. Questa è l'home page della nostra community. Gli argomenti più rilevanti in cui trovo subito nell'home saranno le news e gli eventi. Il Master ha contribuito a fornirci le competenze non soltanto tecniche ma anche quelle trasversali che ci hanno appunto aiutato a lavorare in gruppo e a raggiungere gli obiettivi prefissati. Le strutture erano all'avanguardia, al tempo stesso ci permettevano di lavorare insieme. La nostra comunicazione ha l'obiettivo di pubblicizzare la nostra community, non solo per i clienti Honda ma anche per tutti gli appassionati del motociclismo. Sicuramente quella di lavorare in gruppo, quella di saper organizzare bene il lavoro. Lavoro di squadra, flessibilità, comunicazione e capacità di public speaking sono state fondamentali. Grazie per la partecipazione. Grazie per la partecipazione. Grazie. Grazie.